Come nasce la storia dell'erborario? Che pare che sia una storia stupenda, no? Che gentile. Beh sì, è la storia di due ragazzi che si conoscono sui banchi di scuola e hanno, tra le altre tante cose in comune, la passione per il mondo dell'erboristeria. Naturalmente si parte rigorosamente dal presupposto che questa resterà una passione privatissima, intima. Daniela, finito il liceo, si iscrive a Biologia, si laurea felicemente, è riuscita a, come dire, a far coesistere, ne chiedo scusa, a far coesistere con i suoi studi ufficiali questa passione, quindi un diploma di qui, un altro a Siena, Franco a sua volta a Scienze politiche, ma anche lui, diploma d'erborista, affitto preparatore, eccetera. Nel 1977 grave incidente, c'è un tocco di casualità, un mio grave incidente motociclistico sul lavoro in Francia, è un anno, diciamo, di pausa forzata e di riflessione. Nel 1978, quando finalmente io mi rimetto in piedi, riesco a fare in bestialire in contemporanea genitori e suoceri, perché naturalmente i suoceri sognavano per Daniela la carriera dell'insegnamento, nella quale era già ben avviata, i miei genitori con scienze politiche, un bancario, un bel segretario comunale, apriamo un'erboristeria e quindi, vabbè, travio definitivamente la loro figliola e faccio in bestialire i miei genitori. Follia nella follia, questa erboristeria non è un esercizio commerciale semplice, ma sì, è un'erboristeria artigiana, siccome non era abbastanza folle alla fine degli anni settanta aprire un'erboristeria, ci abbiamo aggiunto qualcosa, sì, sì, un disastro. Ci rendiamo conto della nostra grande passione, della nostra grande volontà, ma dei nostri enormi limiti tecnici. A questo punto quelli che erano stati i nostri docenti nei corsi qua e là per l'Italia, non possono diventare i nostri consulenti perché le nostre casse sono assolutamente esangui, allora, vista anche una forte differenza di età, ci adottano e ci guidano e continuano, non so come dire, a restare nei nostri pensieri più affettuosi e più grati. Ma questi corsi frequentati, diciamo, a titolo di pura passione personale, si rivelano poi anche, se vogliamo, fonte dei primi rapporti di lavoro perché molti di quegli allora giovani che si erano diplomati in erboristeria piuttosto che poi aprono un'erboristeria e così il cosmetico comincia. E iniziate una crescita lenta. Ma sì, con un passaparola virtuoso in giro per l'Italia. Il modello di business oggi qual è? Oggi diciamo che noi dopo essere passati attraverso all'acquisizione di un numero molto alto di clienti multimarca, ancora oggi sono più di 5.200 sparsi sul territorio italiano e sono eminentemente delle erboristerie, grossomodo diciamo 4.000, diciamo 1.300 tra farmacie e parafarmacie. Poi una dozzina d'anni fa abbiamo cominciato a lavorare sul monomarca, sulla catena dei negozi ad insegna che oggi sono sul territorio nazionale 150. Sono un monomarca in segna ma non vostro, sono franchising in genere? Sì, diciamo che 27 piuttosto che 28 sono di proprietà, gli altri sono gestiti da affiliati che comunque i miei colleghi del franchising coordinano, formano, gestiscono a 360 gradi. E questo è il modello di sviluppo in Italia? In Italia, certo. E diciamo che se vogliamo abbiamo avuto, ma anche qui la fortuna, io penso che un pizzico di 80 fortuna sia sempre utilissima. Abbiamo avuto la fortuna quindi di avere da subito nel nostro squadro persone di grande esperienza, di grande valore, tra le poche persone che magari avevano già esperienza nella catena monomarca, nella catena in segna. E poi l'hanno trasferita. Però lei negli anni 70 fa quello di cui oggi si parla, cioè naturale, la sua lucida follia degli anni 70 è quello di cui abbiamo sentito all'inizio. Però questo è anche una grande sfida per lei, perché adesso sono entrati nel suo mercato chissà quanti competitor o no? Assolutamente sì, la pressione è fortissima. Immagino. E quindi come rispondere? Io credo che il rimedio possa essere quello di ascoltare con molta attenzione le nostre clienti, quelle che da sempre definiscono le nostre datrici di lavoro, le nostre benefattrici, le nostre stelle polari. Beh, una recentissima ricerca su un campione esaustivo di tutta la popolazione italiana, ricerca che abbiamo commissionato a settembre, ci è stata consegnata a novembre, ci dice che le nostre clienti apprezzano molto nel prodotto dell'erbolario la qualità e l'efficacia. Quindi lavorare sempre, rigorosamente, maniacalmente. Poi cosa apprezzano? Apprezzano l'ottimo rapporto qualità-prezzo del prodotto dell'erbolario, ne apprezzano la naturalità, ma non siamo soli, mentre prima eravamo oligopolisti oggi. Apprezzano il profilo etico che l'azienda ha sempre portato avanti. Quindi massimo rispetto per le persone, mai delocalizzata nessuna fase produttiva o ideativa, men che meno in paesi in cui i diritti dei lavoratori vengono calpestati. Rispetto per gli animali, siamo da oltre 25 anni a fianco a un'associazione animalista con la quale abbiamo conseguito importanti traguardi. E poi rispetto per l'ambiente. Ancora una volta non è un ammantarsi di verde dell'ultimo minuto, la nostra certificazione ISO 14001 che testimonia la gestione dell'impatto ambientale con un sistema di gestione, un ISO 14001 appunto, data nel 2002, abbiamo cominciato a lavorarci addirittura nel 98. Beh, diciamo, ascoltiamo le nostre clienti anche quando ci dicono che apprezzano davvero molto il made in Italy che da sempre si caratterizza anche lì ossessivamente. E poi cosa apprezzano? La gradevolezza non solo delle profumazioni ma del nostro cosmetico in generale e poi innovazione, innovazione, innovazione. Può sembrare una banalità perché non sono certo il primo a parlare di innovazione, però pensiamo che ogni anno una struttura come la nostra, non gigantesca, propone al mercato una quarantina di prodotti nuovi che cercano appunto di stupire la nostra cliente, di conquistare anche davvero con... Lo spazio in Italia c'è ovviamente, ma per voi è necessario andare anche come abbiamo parlato tutta questa mattina ad aumentare la dimensione, i mercati anche internazionali o no? E lì sono cavoli perché è tosto quando si... Sì, sì, sì. E noi siamo un po' la pecora nera. Perché? E perché noi fuori dai confini nazionali realizziamo un modestissimo 10% del nostro giro d'affari. Quindi siamo... Ma se volete andare, state pure... Vogliamo e dobbiamo però fare dei compiti a casa molto molto gravosi. Tipo? Tipo quali? Adesso, non so, stiamo guardando con ancora maggiore interesse a Oriente, l'Asia e ci stiamo guardando sempre col negozio monomarca a insegna perché dobbiamo proprio far sì che il nostro marchio venga attrezzato nella sua totalità. Il nostro miglior cliente odierno fuori dai confini nazionali è Taiwan, 11.000 chilometri di distanza, pelle diverse, culture diverse, però l'italianità... Ma ci avete in monomarca? Sì, sì, per forza. Ma lei non è mai stato tentato per entrare sui mercati nell'abdicare a questo vostro credo? Ma sì, ma in passato l'abbiamo fatto più di una volta. Vi perdete? Sì, sì, laddove c'è un negozio in segna la visibilità è senz'altro di gran lunga superiore. Più costi, più difficili o no? Sì, secondo me ancora una volta però ci vuole quella, non so come dire, quel granellino, granellone di fortuna che ci porti a incocciare nel partner giusto. Il nostro successo a Taiwan è legato a questa non più giovanissima tigre, che penso abbia qualche anno più di me, quindi insomma sopra i 70. Ma intende Taiwan o l'imprenditrice? La gestrice di Taiwan ed è bravissima. Si chiama fortuna, vero? Fattore Q, come vogliamo definirlo, vero? Sì, perché la verità è che non l'abbiamo beccata noi, è lei che ha beccato noi. Veramente? Sì, sì. E come vi ha beccato? È venuto in Italia e vi ha beccato, non ho capito? Sì, sì, per il tramite di una conoscenza in comune con un amico, ho cominciato ad usare i nostri prodotti, beh ma è il fattore Q è fondamentale, sempre rigorosamente, è vero. Grazie. Grazie mille. Grazie, buon cammino.